Li chiamano tempi moderni oppure società civile in costante vie di evoluzione. Peccato che esista però una piccola frangia di persone che di civile ha ben poco. Nel territorio Ipparino, infatti, sembra diventata una pratica abituale, quella di seviziari cani. L'ultimo episodio incontrato a Salmè, che fa capire ancora una volta con chi siamo costretti a dividere e associare l'identità di persone con soggetti, cioè che si dilettino in barbari e assortite con gli animali. E ieri la nuova scoperta è un'aperta campagna fatta da una ragazza che non poteva non inorridire davanti a quello che si è visto davanti, ovvero un cane legato ai piedi con una corda e ricoperto di fango. Un episodio barbaro che segue quello di qualche tempo fa quando un altro cane venne trovato con le zampe spezzate e restano a quanto pari inutili i recenti appelli affinché si vigili per evitare i fatti del genere perché se la mente è deviata questi richiami servono a poco. E allora, semmai un giorno qualcuno verrà scoperto a seviziare un animale che paghi almeno severamente per la barbarie che procura e diffonde in giro.